20 anni, oggi è anniversario, la riapertura delle Cristalbelter, mio cugino ha curato ogni dettaglio, ingrandimento del negozio, la gente deve fare parecchio shopping qua, come ben vedi, passi attraverso lo shop, uscendo devi comprare per forza. E il museo? Cos'è la cosa che ti piace di più? Mi piace molto l'albero di Peor Tontie e mi piace molto la camera di questa scultrice coreana. Grazie, ciao Fione, ciao!